Benvenuti a questo nuovo video del Conevic Channel Italia video che potrebbe essere uno degli ultimi del canale. Voi sapete che tra un po' ho intenzione di cambiare la macchina e alla mia età sinceramente, a parte il costo esagerato delle auto elettriche, poi sapete com'è le tessere, le app, l'autonomia, le ricariche, la pianificazione dei viaggi, ormai sto diventando un po' anziano per tutte queste cose qui e quindi pensavo forse di ritornare a una bella auto termica, però in tutti questi anni io ormai mi sono dedicato all'auto elettrica e quindi sono rimasto indietro per quanto riguarda l'auto termica e l'evoluzione che ha avuto in questi anni. Per cui ho una serie di quesiti che mi furono per la mente e volevo sottoporli a voi. Lo so che chi segue il mio canale per la maggior parte ha un'auto elettrica e quindi probabilmente non sarà così tanto informato neanche lui, però mi piacerebbe proprio che voi possiate darmi una mano in questa mia scelta. e ho preparato un po' di punti, così me li sono segnati perché voglio proprio essere aiutato da voi. E partiamo dalla manutenzione. Sono andato nella concessionaria dove vado di solito, dove vendono anche auto termiche e Cristian mi ha parlato di olio del motore da cambiare, di candele o iniettori, di filtro dell'olio, delle pastille dei freni, della cinghia di distribuzione. Mi sembra una cosa un po' insomma pensavo che si fossero fatti dei passi avanti in questo. E quindi magari se qualcuno di voi sa dirmi quanto potrà costare questa cosa, con quale frequenza devo fare tutti questi cambi e magari anche se qualcuno di vuoi sa dirmi che cosa succede a quest'olio? Viene riutilizzato? Viene solo smaltito? Beh, sicuramente i motori termici saranno di molto migliorati da quando avevo l'auto io e non sarà più come prima che con 100 euro di benzina, in pratica 70 euro finivano dispersi in calore e soltanto 30 arrivano alle ruote, vero? E poi? Beh, questo mi sa che non sarà ancora così. Se compro un'auto a benzino diesel non credo che si rigenerà il carburante quando rallento o quando guido in discesa. Vabbè, pazienza, insomma. Oh, le ultime auto termiche che avevo, quando schiacciavo l'acceleratore, sembrava che ci fosse un ritardo dal momento in cui io schiacciavo l'acceleratore quando effettivamente poi la macchina accelerava. Però non sarà più così adesso, vero? Si saranno fatti dei miglioramenti anche lì. L'ingrediente principale per fare la benzina è il petrolio, lo sappiamo tutti. Beh, dai, sicuramente non sarà più vero che l'estrazione e la raffinazione del petrolio, oltre a essere costosa, onerosa, eccetera, causa problemi ambientali. Avranno risolto questo problema. E soprattutto avranno risolto problemi dei conflitti, delle guerre per il petrolio che negli ultimi cent'anni sono costati centinaia di migliaia di vite, vero? E io mi aspetto proprio delle risposte. Di certo non sarà più vero che devi trasportare il petrolio a destra e a sinistra per poi raffinarlo, fare la benzina. Non si useranno più le famose petroliere che alcune di queste sono affondate creando dei disastri inenarrabili per quanto riguarda l'ambiente. Sarà così, no? E poi una cosa che mi preoccupa, ma è vero che le auto con motore a combustione è sempre più vietato di entrare in città in tutto il mondo, perché si dice che tendono a danneggiare l'ambiente e la salute dei cittadini. Non può essere la Volkswagen. Per esempio, nelle prove su banco delle loro auto avevano dei risultati relativi all'inquinamento che erano molto buoni. Vabbè, poi su strada era un po' diverso, ma non stiamo lì a sindacare. Mi è successo due anni fa che sono rimasto fermo in coda. In autostrada facevo un caldo incredibile perché eravamo in piena estate, ma non è che con l'auto termica per avere il condizionatore d'aria in funzione devo ancora tenere acceso il motore. No, dai, non può essere. Una volta il gas di scarico non faceva bene. Se lasciavi l'auto in funzione in uno spazio chiuso come un garage, potrei anche rischiare di morire avvelenato dai gas di scarico. Sicuramente il problema sarà risolto adesso. Non uscirà profumo di rose, ma non sarà così pericoloso quello che esce dal tubo di scarico. Su! Poi le auto a benzina trasportavano fino a 80 litri di liquido infiammabile, la benzina, il diesel, eccetera, che veniva pompato da cisterne sottoterra, quindi veniva portato prima da camion in queste cisterne. Poi nel motore questo liquido esplodeva e generava dei gas espansivi in espansione che poi spostavano un pistone dal movimento lineare e poi questo movimento lineare doveva essere trasformato in movimento circolatorio. Sicuramente la situazione sarà migliorata o abbiamo ancora milioni di esplosioni e pochi decimetri da dove siamo seduti? Un ragazzo, il mio vicino di casa, che ha un'auto a benzina mi ha detto che gli è successo che perdesse l'olio e quindi gli rimanevano le macchie sulle piastrelle del garage e poi tra l'altro quest'olio qui insomma contaminava anche l'ambiente. È falsa questa cosa, non succede più, dai! Visto che la tecnologia sta avanzando, sicuramente io penso che a breve sarò in grado di rifornire la mia auto anche oltre alla benzina anche sfruttando l'energia del sole, giusto? E poi ZTL potrò ancora entrarci e anche le zone blu non pagherò più il parcheggio neanche con un'auto termica, vero? Ecco io mi aspetto veramente che voi mi diate una mano a rispondere a queste domande in modo che io possa fare la mia scelta di ritornare di nuovo all'auto termica. Bene, si conclude quindi qui questo che potrebbe essere uno degli ultimi video del canale e l'appuntamento è al prossimo video se ci sarà. Come avrete capito stavo scherzando, io sono ormai tre anni che ho un'auto elettrica e ritengo che sia la mia Kona sia la migliore auto che io abbia mai avuto, con i suoi limiti, ma la migliore auto che io abbia mai avuto e sono così convinto della mobilità elettrica che addirittura di auto elettriche in casa ne abbiamo due. Volevo scusarmi con voi per il titolo da clickbait, come sapete io non ho mai chiesto nei miei video di iscriversi al canale o di mettere un like e non lo chiederò mai perché la cosa non mi interessa più di tanto, così come non ho mai fatto titoli clickbait soltanto per attirare l'attenzione. Però in questo caso ero obbligato perché se già mi avessi messo il titolo sto scherzando, ovviamente lo scherzo non riusciva. Ed è sì uno scherzo, però ho voluto fissare un po' l'attenzione su alcune differenze tra l'auto elettrica e l'auto termica di cui non si parla tanto o che non si tiene molto da conto durante le discussioni perché quando si parla di auto elettrica si parla di costo dell'auto elettrica, di ricariche, di autonomia, quanti chilometri faccio, di pianificazione dei viaggi eccetera eccetera. Queste sono altre cose di cui magari bisognerebbe tenere un po' conto quando si decide di cambiare auto. Agli amici termici che per me sono amici, ripeto amici, perché chi compra un'auto termica non lo considero un mio nemico e spero di non essere considerato così da loro. dicevo, gli amici termici spero che prendano questo video con la dovuta dose di ironia, è uno scherzo e spero che non mi sommergano di improperi. A tutti quelli che invece vogliono cambiare l'auto e stanno pensando ad acquistare un'auto elettrica, proprio informatevi, cercate di informarvi bene. Non fermatevi ai titoli dei giornali, magari non soffermatevi troppo a quello che dicono certe trasmissioni televisive o certi giornalisti e anche certi politici, ma neanche magari soffermarvi troppo su quello che dicono alcuni youtuber che parlano del mondo dell'elettrico. Io vi consiglierei di cercare nella cerchia delle vostre conoscenze, ed è sempre più probabile che qualcuno ci sia, dicevo qualcuno che ha un'auto elettrica, ma non un'auto elettrica da una settimana per cui non sa ancora dove è seduto, ma che ha l'auto elettrica da un anno, due anni. e chiedete a lui che cosa vuol dire la mobilità elettrica, quali sono i pregi e quali sono i difetti e i limiti, perché ce ne sono, dell'auto elettrica. E poi fate le vostre considerazioni. A me è successo di dire a più di una persona di lasciar perdere e di non comprare l'auto elettrica. In particolare mi è capitato, mentre stavo caricando la mia cona, un signore che si è avvicinato, e dico signore perché sembrava più anziano di me, o forse li portava solo male agli anni che aveva, che si è avvicinato dicendomi, ma sarei intenzionato a cambiare l'auto elettrica, volevo quasi comprare intenzionato a cambiare l'auto, volevo quasi comprare un'auto elettrica, lei che cosa mi dice, cosa ne pensa? e io avrei potuto dirgli, certo deve comprare un'auto elettrica, perché sicuramente il futuro è... No, gli ho chiesto, ma scusi lei, se posso permettermi, che cosa ne fa dell'auto? Ah, dice, guardi, io non la uso praticamente mai, perché qui ad Aosta viaggio a piedi o con i mezzi pubblici, non vado mai da nessuna parte, tranne due o tre volte all'anno in Puglia. Al che gli ho detto, guardi, per comprare un'auto elettrica, non usarla mai e fare tre volte all'anno un viaggio in Puglia, forse è meglio che lascia perdere. Devo dire, magari non soltanto l'auto elettrica, ma proprio l'auto, perché forse sarebbe quasi meglio che cominciasse a pensare che questi viaggi di farli in treno o in aereo, piuttosto che in auto. Quindi, voi sapete benissimo come la penso sull'auto elettrica. L'auto elettrica è per molti, moltissimi, ma non per tutti. Quindi, se siete indecisi, se dovete cambiare auto e state pensando all'auto elettrica, informatevi bene. Informatevi da chi l'auto elettrica ce l'ha e la usa, magari da anni, che sicuramente sapranno darvi delle risposte. Una volta che avrete avuto queste risposte, magari chiedeteli di consigliarvi, fate la vostra scelta. E a questo punto comprate l'elettrica, comprate la diesel, comprate benzina, comprate le ibride, comprate le plug-in. Non è importanza, comprate l'auto che maggiormente va bene per voi. Bene, siamo arrivati al termine, veramente questa volta, anche di questo video. L'appuntamento è al prossimo video dove parleremo ancora di mobilità elettrica. Perché io, l'auto elettrica, non l'abbandono. No, no.